Mamma, mi sto annoiando, mi sto annoiando, mamma, mi annoio, che posso fare? Ma che posso fare? Sbuccia i piselli. No, dicevo tipo di gioco, io che posso fare? Mi sto annoiando, mamma, che io quando mi annoio, poi mi annoio veramente, mamma, no, non posso fare, mamma, che posso fare che mi annoio, mi annoio? Pum, e ti arrivava lo schiaffone, lo schiaffone quello di rovescio con l'anello, così, che rimanevi assintumato, con quella cattiveria che solo una madre sa avere.